Ehm, ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi, dopo tantissimo tempo, torniamo sul mio minigame preferito che tutti sanno qual è. Qual è il mio minigame preferito? RoccoLokis o RoccoLokis o come ti vuoi chiamare. È il parkour? Non è il parkour, io odio il parkour. È il nascondino! Siamo sui dropper, siamo Taylor Swiffer contro il RoccoLokis e oggi andremo a sfidarci nei dropper ma saremo soltanto uno per uno perché siamo su Apixel, quindi il server pubblico ma possiamo fare dei game in cui siamo solamente noi due e questo è il caso. Possiamo anche selezionare il livello delle mappe tipo Easy, tipo Medium e tipo Hard. Facciamo una cosa progressiva tipo per esempio 6 Easy, non so se ho messo 6 mappe Easy in questo momento ma andremo a giocare prima con quelle Easy poi con quelle Medium, poi con quelle Hard poi un po' Missy e tutto è a punti. Chi finisce per noi 5 livelli vincue, però qui abbiamo livelli veramente Easy quindi secondo me il problema non si pone neanche ok, devo togliere le nuvole devo togliere le nuvole mi devo ricordare di fare questa tranquillo, io ho un problema a riconoscere l'acqua questa è acqua ma è facilissimo no, non è facilissimo vedi che non è facilissimo e perché non riesco a fare questo livello che dovrebbe essere più facile? allora, con calma tranquillo, sono 4 livelli io devo togliere le nuvole ricordiamocelo certo che puoi andare avanti ma chi finisce per primo? sì, chi finisce per primo i 5, 4, 5 livelli non so quanti siano ok primo fatto ok, l'ho failato un botto di volte ho fatto schifo ho fatto anche il secondo ma Nico, sono facilissime dai siamo in quelli facili se non riusciamo a fare questi la caccata ma parte che ti ho recuperato sono letteralmente dietro di te e non... non ci sai qua, non è vero eccoci qua allora, questo quella non è acqua quello è vetro questa non è Ibiza buono, ho superato lo Colokis ho superato lo Colokis mannaggia, è vero ma in realtà non sono quanto sono 9, è scritto sono 9? ah, ma meglio allora è molto meglio che siano 9 quindi ne abbiamo 6 no questa non è un dropper buono abbiamo quindi 6 livelli facili e poi tipo 2 difficili 2 difficili, 1 medio non lo so comunque fino ad ora io sono abbastanza nel chilling non lo so perché penso che fossero è facile, dai sono tutti qua però dopo questo c'è quello medio vedo già quelli gialli vedo quindi già no, le morti non contano contano chi finisce prima tu c'è 5 morti o c'ho 2 morti non contano le morti contano chi finisce prima mi dispiace voilà fatto questo è il primo colpo e poi abbiamo è medio ho sbagliato ho sbagliato anche tu hai sbagliato e anche devo togliere tolgo il round dopo non posso perdere tempo nuvole tolte ok abbiamo l'ultimo abbiamo l'ultimo che è quello difficile questo è difficile non riesco a beccare sono tutti giusti c'è un buco di letteralmente uno da beccare non ci credo non ci posso creare che fortuna che fortuna sono arrivato a secondo con uno scarto di due secondi letteralmente va bene rigiochiamo ma aumentiamo la difficoltà perché questa volta mi piace questa volta mettiamo tre mappe facili così che ce le togliamo subito poi ne mettiamo sei medie e ne mettiamo poi due difficili e poi andiamo a livello in cui mettiamo più difficili oppure tutte medie difficili insomma la difficoltà crescerà lenta quindi sei pronto a perdere ancora allora qui hai vinto soltanto perché hai avuto fortuna non ho tolto le nuvole tolte tolte tranquillo è stato proprio repentina vedo l'acqua vedo l'acqua vedo l'acqua sono quelli facili se non vedi l'acqua in quelli facili siamo a 11 livelli in questo minigame quindi ok ci sta buono può essere più lungo rispetto al precedente poi abbiamo il the second one questo è facile ok passato anche nel buco largo 1 per fare le cose più wow allora questo è un livello vabbè e magari c'è chi non riesce a completarlo non è che devi prendere in giro le persone ne conosco un po' di gente infatti che non potrebbe non c'erano mannaggia oh ero sopravvissuto ok va bene dove devo passare qua scusami sì fatto ma dov'è l'acqua mannaggia non avevo visto l'acqua ma dove sei passato interno alla ciambella ah ok sì non mi ricordo sai peccato hai un vantaggio sono tu sono my shaft sono my shaft dimmi quando finisci quello dopo cool my shaft ho finito questo certo ok no l'acqua d'altra parte mannaggia l'acqua no dai è un vantaggio l'hai fatto il my shaft eh adesso si ok qui ci siamo buono questo è difficile Nico ti avviso spero che tu lo missi l'hai missato siamo insieme questo si fa il primo nel chilling l'ho fatto il secondo questo pure questo pure dai un gioco da ragazzi e ora abbiamo quelli hard questi sono tosti sono due hard sì in teoria sì dico comunque noi siamo pro non è che fatto 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 ma non ha toccato il gioco voglio il var su questo gioco eh no vabbè ragazzi ti prego ti prego no questo è difficile ti avviso è l'ultimo fatto sono da te eh mammo tu lo fai è difficilissimo dico questo ti giuro tu l'hai già fatto per chi non ti vedo lo so sto continuando a cadere sei davanti al traguardo oddio è effettivamente difficile è effettivamente difficile lo posso confermare diventa una parte più lontana e vedi l'acqua sei proprio simpatico sei proprio simpatico l'avevo già capito che tu fossi lì sei facili sei medie tre difficili questo è il massimo della lunghezza che si può fare sono quindi sei più sei più tre sono quindici pensavo fosse partito non so perché va bene no questo è una run no errori non ne sbaglio uno pensavo che si sia sbagliato non ne sbaglio neanche uno ho detto facilissimo davvero molto semplice finito anche il bridgeers ora abbiamo i palloncini balun sei avanti molto rispetto a me adesso è importante importante questo distacco vabbè questo è davvero semplice ma è dritto molto molto tranquillo ok sono avanti di due davvero ok se misso questo sono davvero una persona che deve disinstallare il gioco infatti ok i livelli facili li abbiamo terminati ora abbiamo i sei medie sei medie eccoci qua sei medie ancora siamo zero errori nico eh questo davvero era consigliabile facile secondo me sono a quello medio sei a quello medio ma sì ma io sono già western praticamente ok fatto no questo sbaglio però ma perché portare così lontano ogni volta ho fatto un errore stupido così hai fatto ho fatto una morte potevano morire ho fatto due morti sono stupido in un punto che tra l'altro è lo stesso sono a glacier ah io sono a western adesso quello di primo western mannaggia lui fatto il primo colpo ok anche il glacier siamo insieme ho appena finito cavolo è finito overgrown overgrown anche overgrown no c'è da passare un blocco largo 1 ciao nico ciao ciao ok facile cavolo no tu lo conoscevi già bene tu lo conoscevi già cosa vuol dire lo conoscevo già bene ok mamma mia che precisione questo passaggio sono nell'oceano io ocean ocean è quello di prima fatto al primo colpo come hai fatto al primo colpo attenzione sento la pressione sento la pressione nell'aria e nelle vene pioggia vento e sangue nelle vene eh questo l'ho missato però one eternity later hai tipo un punto in cui pensi di riuscire a farlo no perché no non capisco davvero oh posso schippare il livello no no dai non vale eh quando ci sei tanto lo puoi fare anche tu tranquillo non va non puoi dai non vale ormai l'ho fatto è perché c'eri l'hai fatto anche tu no puoi farlo tra poco adesso posso farlo dai ma è giusta questa cosa tu hai vinto cazzo non skip ti rendi conto beh l'ho vinto tu hai vinto solo perché hai schippato un livello effettivamente vabbè l'hai fatto anche tu l'hai fatto anche tu o sbaglio l'hai fatto anche tu ma tu hai vinto per quello guarda siccome ti vedo che stai un po' un po' frignando ci sta lo capisco io stavo continuando a fare la mappa ah non avevi finito no ma scusa non so che sei finito vabbè comunque siccome vedo che sei un po' un po' così riproponiamo lo stesso livello quindi 15 e stavolta è l'ultimo proprio questo one try one shot possiamo pareggiare o puoi vincere tu allora questo ormai è masserato questo livello è proprio davvero facile anzi riproponiamo questa qua sarà la la run senza alcun errore vabbè prima c'è stato un problema ho laggato ho laggato ma perché tu pensi fare la gana al primo colpo adesso sì io in realtà l'avevo trovata la strada però non riuscivo a farla se devo essere onesto davvero sì cioè era fattibile però mi stavo arrabbiando e quindi appena è apparso lo skip ho detto perché non schifarlo quante volte hai sbagliato fino a zero sono dietro di te porca miseria è sbagliato anche tu hai sbagliato però no invece no ti ho superato ma non è vero stavo dietro di te vuoi sul tuo piede entrare ora nel portale ma io non ho mai sbagliato vabbè questa è la run che è un errore consentito era la run ah questa è la run in cui un errore si può fare e due no due due no se ne fai due vieni lapidato lapidato no ma è per è per avere più self confidence non va bene questo è semplice cioè questo non so perché lo considerino complicato è davvero davvero semplice ho mi stato da qua anche io perché sono stupido ho appena detto che era a livello semplice va bene succede succede quando troppa confidenza quando perdi esatto quando prendi troppa self confidence succede questo ok ti ho visto siamo letteralmente nello stesso point qui basta fare una cosa di questo tipo buona buonissimo buonissimo si è tratto inattamente lì te si si perché no questo è quello brutto facile davvero molto molto semplice livello proprio principiante oserei dire le seconde robe ok questo è quello che ho sbagliato due volte prima e mo non mi faccio prendere di nuovo da spravvista no dai ho preso l'acqua ho preso l'acqua ok ok importante importantissimo dico non riesco a fare la giungla è un peccato è un problema che non so se riuscirei ad affrontarlo fossi in te no dico ho perso non è vero ancora non sono arrivati ai livelli difficili ok però che fa non sembra ma questo perché lo considerano difficile quale ravine ravine è il più facile di tutti I don't know frog spawn però ho di buono ho di buono che essendo arrivato prima di te dovrebbe comprare il mincaso no lo skip non si può usare stavolta l'hai detto non si può usare lo skip non ho detto questa cosa io allora devo tranquillizzare ora non parlerò per un po' mannaggia ho le fans voglio una musica tra yarding per favore avviate ora la musica questo è il tentativo giusto no non ero pronto ho dovuto premere f1 questo è il tentativo giusto il prossimo il prossimo tentativo lascio ascoltare la musica le persone il prossimo tentativo il prossimo ancora perché ho avuto un errore un bug che ha laggato il server dicevo un prossimo prossimo tentativo perché mi ha laggato il server purtroppo sto per cliccare skip sappilo questa è una rana questa non è Ibiza questa è una rana questa non è Ibiza questa è una rana Ibiza è ben diversa posso confermarlo l'hai vista? si 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 ah c'è un bug in mezzo a quelle vetri si 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 non l'ho compreso io ti posso dire però che voglio arrabbiarmi ma questo livello non è proporibile questo livello secondo me io lo vorrei proporre ai creatori e dirgli o mo me lo fai davanti agli occhi no non è questo dico guardiamoci un tutorial di come fare non credo che nessuno l'abbia mai superato ma ho trovato la strada dov'è? ditto no no ci ho passato no nico l'hai fatto nico l'ha fatto stai zitto l'ha fatto nico stai zitto l'ha fatto non ci credo stai zitto l'ha fatto come hai fatto no è arrivato alla bocca non riesco a fare l'ultimo perché ok ma allora ma perché è così difficile ok ok no niente non riesco a fare questo livello non trovo più il punto non trovo più il punto io non riesco a fare più il livello delle flight trap che abbiamo fatto prima ragazzi io è con piacere l'ho fatto l'ho fatto che ti dico l'ho fatto che per oggi l'ho fatto l'ho fatto è tutto l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto proprio all'ultima e lo aspettiamo qui vediamo 20 secondi eh dico questa l'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto l'altra volta perché non scopri a farla chissà come mai a me è successa la stessa cosa nell'ultima ok abbiamo l'ho che ancora non riesce a fare l'ocean purtroppo non lo vedo non so perché è invisibile 6 5 4 3 2 1 you win e come vedete non c'è un secondo arrivato noi ci veniamo mai come il prossimo video fatemi sapere se volete altri video di questo tipo buon Natale a tutti e felice ma non muove